Il pareggio genovese contro il Ligorno non può soddisfare un Varese che deve trovare il più presto gol e continuità di risultati per non perdere il treno di testa. Sotto la prima occasione con l'Az Miracoli per trovare il pari Biancorossi hanno dovuto costruire tante e troppe occasioni prima dell'1-1 di liberati. Per stare lassù serve maggior cinismo. Cinismo e capacità di soffrire che la Varesina ha dimostrato di avere con il Desenzano. Un super vitale gol e due assist per Manicone Gasparri ha trascinato le Fenici al 3-2 che vale al meno 5 della capolista. A Legnano sembra funzionare la cura Zattarin, ma la goda al dischetto e i vecchi di testa piegano il ponte San Pietro per la seconda vittoria consecutiva senza subire reti. Sconfitta in dolore per la Castellanzese che cede la corazzata pro palazzolo ma continua a dimostrare ottimi segnali di crescita dopo una via difficile.